Sì, da qualche giorno Salerno ha spento le luci, le sue luci d'artista, un avvenimento che è diventato caratterizzante per il Comune Capologo che riesce comunque a distanza di anni ad attrarre tante persone e a destagionalizzare in qualche modo anche i flussi turistici. Possiamo tirare un bilancio di quella che è stata l'edizione che abbiamo appena passato gli archivi? Sì, credo che sia stata un'edizione assolutamente soddisfacente, un grande afflusso di turisti, di persone che contrariamente a quanto si verificava qualche anno fa restano a Salerno, vengono a Salerno per venire a Salerno, quindi Salerno come destinazione turistica e non più come luogo di passaggio. Questo è un fatto che va scritto interamente all'iniziativa luci d'artista che ha configurato un'immagine della città a livello nazionale come una città dove si vive bene, si sta tranquilli e ci sono delle ottime occasioni di spettacolo. Insomma, è una città nella quale si viene con piacere. È stata anche la prima edizione targata Blancher, Illuminazione. A noi non interessa chi sia la ditta che fa le installazioni, a noi interessano le installazioni. Devo dire che le installazioni di quest'anno a me sono piaciute francamente, sono alcune in momenti anche particolarmente cospicui come il carro di Lettuno in piazza Flavio Gioia o piuttosto che l'albero di Natale. Insomma, ci sono state delle cose di grande momento. Ciò non toglie che noi faremo insieme ai nostri tecnici, insieme alla Blancher, qualche riflessione per verificare se ci sono delle criticità da correggere. Grazie a tutti.